il giornale dei misteri la storica rivista il giornale dei misteri il giornale dei misteri chiocciola virgilio punto it ha pubblicato don giuseppe inviato speciale in cui un gruppo di amiche interroga per via medianica don giuseppe gervasini detto è il predera tanà il sacerdote lombardo vissuto tra il 1867 e il 1941 personaggio eclettico uomo di campagna autore di numerose guarigioni e prodigi in questo dialogo risponde a quesiti sui temi più importanti dell'esistenza prima e dopo la morte la serie è stata curata all'inizio da luciana petruccelli e adesso dopo il trapasso di luciana da elio pastore estimatore di don giuseppe domanda don giuseppe vorrei chiederti qualcosa sul peccato o meglio quello che per la religione viene chiamato peccato e che per il consesso civile può venire chiamato errore o contravvenzione alle leggi ci sono molti peccati che si sa sono riprovevoli il furto l'assassinio questi non c'è nemmeno bisogno di commentarli ma ci sono delle azioni che secondo determinate morali non sono riprovevoli e secondo altre lo sono come pure situazioni che viste da una certa angolazione sono accettabili e da un'altra no mi riferisco per esempio al rapporto fra due persone di sesso diverso due persone benedette da un sacerdote possono vivere insieme e compiere degli atti fisici due persone non benedette dal sacerdote commettono atto impuro ci può illuminare dobbiamo accettare le leggi che ci sono imposte oppure dobbiamo seguire quelle che ci suggeriscono la nostra coscienza e il nostro intelletto don giuseppe ti rispondo subito dicendo che le leggi dell'uomo vanno a favore dell'uomo da sempre l'uomo ha cercato di formare un gruppo che potesse obbedire a un capo vale a dire ha sempre ricercato di poter ubbidire a qualcuno che fosse in grado di decidere le sorti sue e dei suoi amici e questo è naturale poiché l'uomo è un animale che vive in comunità e non è nato per vivere in solitudine da quando l'uomo si è costituito in gruppi chiamiamole piccole società ancora nei tempi antichi si è posto il problema del formare in qualche maniera tanti piccoli gruppi perché questi meglio si prestavano alla crescita dei figli e al lavoro della terra andando avanti nel tempo a mano a mano le società sempre hanno mantenuto queste caratteristiche e ancora più avanti fino ai nostri tempi quasi tutte le società vogliono mantenere quei rapporti che si chiamano unioni unione fra uomo e donna perché questa meglio serve soprattutto per i figli e per la società stessa perché è subito spiegato se la società permettesse o volesse seguire le regole naturali quelle per cui l'uomo e la donna si possono unire per amore procreando per amore succederebbe di sicuro che si avrebbero molti figli guardati da diverse madri poiché non sempre l'amore dell'uomo dura per tutta la vita quindi se tutto questo non fosse regolato è chiaro che più uomini avrebbero unioni con più donne e i figli non avrebbero un regolare padre e una madre non avrebbero una morale da seguire una cultura secondo quanto desidera e ha sempre desiderato fino a ora la società e allora le religioni hanno subito pensato tutte le religioni o quasi che questo era veramente il punto importante per poter centrare i loro insegnamenti formare la famiglia fare sì che l'uomo si leghi indissolubilmente alla propria moglie chiedendo di difenderla di proteggerla e di custodirla chiedendo alla moglie di crescere bene i figli tutti quelli che dio avrebbe permesso loro formando la famiglia l'uomo ha responsabilizzato la coppia ha responsabilizzato entrambi e ha fatto sì che ciascuno di loro lavori per ben mantenere l'unione la casa all'uomo è stata data la donna perché oltre al lavoro abbia una compagna che rassereni le sue ore alla donna è stato dato l'uomo perché la protegga e l'aiuti e la mantenga i tempi sono passati ma sempre la religione ha pensato che questo punto cardine non avrebbe dovuto mai essere toccato non solo rafforzato poiché soltanto la salda unione della coppia può garantire una società con base sana di mente e di corpo la promiscuità non bene si adatta alla natura di eventuali figlioli questo è quanto l'uomo ha sempre immaginato e pensato e anche ora è così in verità lo stesso problema visto dal nostro punto di vista visto da trapassati da spirito è un poco discordante nel senso che l'amore tra l'uomo e la donna è certamente importante e senza l'amore non vi può essere vita in comune e procreazione ma io parlo di amore e non di vincolo il vincolo è stato inventato dall'uomo per meglio consolidare l'unione noi pensiamo che l'amore non abbia bisogno di vincoli che l'amore vero può esistere fra l'uomo e la donna e può continuare nel tempo nella stessa maniera senza aver dovuto giurare di fronte allo stato o alla religione l'importante è che amore vi sia e poi vi è l'altro problema ed è questo quando un uomo e una donna non si amano più dello stesso amore amore fatto di comprensione amore spirituale oltre che fisico capita che l'uomo e la donna non si amino più per tutta la vita ebbene per evitare altri accoppiamenti e altri amori e figli nati in situazioni non regolari per lungo tempo tutto questo lo si è impedito alle persone che purtroppo hanno vissuto esperienze di amore finiti hanno formato l'uomo a pensare che al di fuori del vincolo prestato di fronte al governo e alla religione ci sia amore impuro amore da condannare noi pensiamo che se è amore vale sempre tanto quanto vale a dire che se l'uomo può provare amore per una donna e delusioni per una donna può anche riamare riprovare sentimenti di amore nella sua vita per un'altra donna e questo non è condannabile non lo è quando tutto avviene nella massima chiarezza fra i due e soprattutto realmente per amore vero intendo dire non l'infatuazione fisica l'infatuazione del corpo intendo dire quello formato dalla mente e dallo spirito quindi per noi è importante che l'uomo e la donna si amino di vero amore il resto è stato formato voluto e mantenuto dagli uomini per comodità propria